Antonio Bacio Terracino amichevole con il Pescara, un modo per mettere minuti nelle gambe però tu sai che molte delle speranze della tifoseria del Teramo anche in questa stagione sono riposte nella tua persona Sì, abbiamo fatto una buona partita secondo me, questa è la seconda, con una squadra di categoria superiore credo che il Teramo ha dato delle ottime risposte anche se appena all'inizio abbiamo le gambe pesanti e c'è ancora tutto il tempo per assimilare le idee del gioco del mister e compattere ancora di più il gruppo Per quanto ti riguarda qualche voce quest'estate è venuta fuori, qualche possibilità di andare via, qualche interessamento anche di categoria superiore ma Antonio Bacio Terracino la sua verità qual è? C'è stata qualche richiesta come hai detto tu, ma comunque la società ha ribadito più volte che ero incedibile quindi sono qui, sono contento e vado avanti col Teramo Di reduci della scorsa stagione siete rimasti in pochi, come hai visto tutti questi elementi nuovi che sono arrivati? Che squadra ti ha sembrato? Ma sono tutti ottimi giocatori, comunque è una squadra abbastanza giovane, per qualcuno è la prima esperienza in Lega Pro quindi dobbiamo dare anche un po' di tempo per ambientarsi in questa categoria Per il Teramo l'obiettivo rimane la salvezza oppure magari strada facendo le cose possono migliorare? Ma parlare di obiettivi è presto adesso, ora dobbiamo pensare solo a lavorare e poi pian piano vediamo questo Teramo dove può arrivare Il fatto che sia stato confermato Zichella dalla scorsa stagione, voi come l'avete preso come un segnale di continuità? Sicuramente per noi che siamo qui dall'anno scorso è positivo perché comunque il mister già ci conosce, noi conosciamo lui quindi è solo un vantaggio per noi Ti faccio una domanda che c'entra relativamente, hai giocato con il numero 7, hai il 7 anche sulla t-shirt, dal 24 passi al 7? Sinceramente ancora devo decidere quale sarà il mio prossimo numero quindi sto valutando ancora le varie opzioni poi vediamo in base pure a chi resta dell'anno scorso che già aveva il numero mi adeguerò a quelli che ci sono disponibili